Mi pare di aver sentito dire che hai in programma una spedizione per raccogliere dei nuovi esemplari. Ehi, ma dove vai ora? Ciao, Pus. Sei contenta di rivedermi, non è vero? Scusami tanto, ma oggi non ci ha portato niente. Sai, credo che non potrò più venire a farti compagnia. Fai la brava, eh. Ciao, bello, come va la vita? Sei venuto di buon'ora oggi, eh? Appena allestito il battello ce ne andiamo a pescare, eh? Sì, lo sapevo già. Ehi, giovanotto, si può sapere cosa ti succede? La mamma non vuole più che io venga a lavorare qui, è colpa di quella neurotica di mia zia. Oh, ma è terribile. La zia dice che è troppo pericoloso e che potrebbe succedermi qualcosa. Però se uno di voi parlasse con mia madre, forse... Doc è l'uomo giusto per questo tipo di faccenda. Vedrai che saprà convincerla. Puoi stare tranquillo, giovanotto, si risolverà tutto per il meglio. Tu credi che Doc sarà disposto a parlare con mia madre? Te lo dice il vecchio Lewis. A noi due non potrà dire di no. Certo, non può dirci di no. Su, non avere paura. Non tremare così. Io voglio solo farti una bella fotografia. Ah, ecco qua. Dunque. Ehi Doc. Il nostro amico ha bisogno del suo aiuto. Che cosa c'è William? notte. Certo. Ciò è un'unico.